La partita inizia subito con una grande occasione, purtroppo è fatto per la scaglia. Mettila scaglia, mettila in mezzo. Bravo. Bravo Seba. Via, 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 vai, 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 vai. Punta, punta. Aspettalo, aspettalo, Lorenzo non si staccare così subito. Migliotti per il ballone. Ce l'hai Lorenzo dietro? Il ballone restituisce a Migliotti, gran tiro all'incontro, ma il portiere c'è l'acqua. Sì, grande parata. Dall'angolo Stagliarini di contrabanzo per Paglioli, portiere esce. Grande uscita del portiere su Giamberini, lanciato a red. Ma nessuno aiuta l'azione. Terretta sulla destra potrebbe crossare, ma dentro un dribbling di troppo. Sarà un passo costante in tutta la partita. Ma devi crossarla subito Italo, te la portan via. Ma non puoi... Italo! Gaioli per il ballone, discesa ma viene giro, altro fatto è trasporto di posizione. Vai 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 vai! Punta, 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 vai! Vai dentro, vai dentro! Largo, largo, largo! Dobbi, stop, scendessi di! Sì, sì, sì! Avversario in vantaggio. Sì! 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 A questo punto il Barcareno si spegne. Avversari sempre primi sul pallone. Abbandati! Difesa fuori posizione e raddoppio. Sì! 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 La posizione è emblematica di tutta la partita del Barcareno. Da un possesso di palla nostro gli avversari recuperano. Pallo, occhio! Difesa ancora fuori posizione sulla destra. L'avversario si invola sulla fascia. Il giocatore di fascia avversario non tenta 3-4 dribbling con i nostri. Ma poi si subito sul secondo palo. Non è così! Reazione del Barcareno. Tito strozzato di Scagliarino. Taglioli alti di sinistro sul calcio d'angolo. Tentiamo una reazione. Altro pericolo. Cross che per poco non va in porta. Per vallone non è giornata. Ancora una volta fermato. Così come per perretta. Ok, giustare, islamo! Vallone! Tentativo di passaggio di Italo. Intercettato dai bravi centrali avversari. Lancio di Miglioti. Lungo. Miglioti, Barbero per vallone che mette al centro. Ancora il centrale avversario. Si intenta un'azione, ma non ci sono idee. Solo possesso palla individuale, come ai giardinetti. Alziamo ancora un po' la palla. Ci sono anche gli altri, eh? Davide, con calma! Vai, vai! Dai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Sopra l'oltre, dai! Tira, tira, tira! Tira con la palla, tira! Dai, dai! Mette la giorno, due! Vai, vai dentro, vai dentro! Vai dentro! Vai dentro una volta! Siete in due! E logicamente arriva il quarto gol, difensori immobili. Le nostre azioni sono troppo lente e prevedibili, gli avversari raddoppiano sempre la marcatura. E questo cos'è? Italo sfonda, ma non crossa. Guarda quanto ci mette a dare la palla, guarda. Dalla subito adesso! Pericoloso lancio il diavolare per l'indice, Marcellino Naro sceglie bene il tempo di uscita. Perretta per scaglia, dribbling e tiro e la palla finisce fuori. La palla vicini, interrompe e riparte. Guarda come tagliano, non uscite! Dalla lancia il diavolare per l'indice, stavolta Taglioli interviene. Poi ripartenza della barca, ma Vallone viene fermato. Migliotti tenta il tiro, debole. Perretta contro tre avversari, viene chiuso. Nel secondo tempo entrano Bonafè per Scagliarini e Lieci per Barbero. Via, 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 via Riccardo! Vieni, via! Oh, oh! Oh, dai, dai, dai! Oh, dai, 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 dai! Ballone mette in cross da gente. Migliotti non dà molta forza di testa e il portiere le spinge. Poi Ita non ribadisce in gol. Bravo Pietro! Tiro di Italo, alto. Dai, attacca, Riccardo! In questa azione c'è tutta la nostra incapacità ad essere pericolosi. Aspettalo, eh! Bravo Tommy! Bravo Tommy! Dai ancora! Bravo Tommy, dai! Ancora, ancora, ancora! Tu, tu, a te! Davidei, torna indietro! Tieni la legna! Mi raccomando! Dai Lolo, dai Lolo! Bravo, Francesco! Mentre qui la palla vicini con due tocchi e getta avanti al portiere. Eccolo lì, guarda! Idem in quest'altra azione, ma stavolta LIA ci chiude. Bravo, bravo, bravo! Si tenta una ripartenza con Perretta e Miglioti. I difensori chiudono. Solita azione individuale di Perretta. Eh, niente, lui è Maradona. Sì. Bravo! Buonaferro ruba palla, Gamberini tira e il portiere quasi si impapera, ma la palla non entra. No, no, no. Miglioti tenta il volo su corner. Via! Poi Buonaferro recupera, alla fine c'è un tiro di Italo fuori. Bravo! Vai, prezza, bravo, Gianlu! Gol! Bravo, bravo! Bel passaggio di Gambero per Miglioti. Gol ingiustamente annullato. Non ne va bene in una. Fuori gioco? Bravo, bravo! Ad ogni possesso palla nostro c'è sempre il raddoppio avversario. Tentativo di Italo su angolo, poi azione convulsa, ad avversari piazzatissimi. E dire che nel secondo tempo poche volte gli avversari passano alla metà campo. I nuovi entrati, come Ceroni, sembrano portare nuova linfa. Ancora lì, ancora lì, frontino. Andiamo! Dai! Se non si arriva, appoggia. Non la portare, eh? Su angolo, Ferriani, Taglioli e Miglioti di testa, poi Bonafè al volo, parata. Bisogna anche dire che non ne va bene una. Guerrieri ribatte, Gamberini di testa per vallone, cross, ma il portiere va in presa. Taglioli per Didu che lancia Perretta. Vai, torno Francesco, torna! Vai adesso! Vai, vai Italo, guarda Italo! Perretta non fa la sovrapposizione con Didu, vuole metà al centro per i due dei nostri liberi, ma il centrale intercetta. Uno che si muove di taglio, dai! Bravo, vince! Bravo, Francesco! Ma che miseria! Vai, corre lì, corre lì! Bel passaggio per Didu, ma il difensore non recupera. Bravo, bravo, bravo! Gamberini per ragazzi, tiro ribattuto. Siamo sempre in avanti, ma in modo confuso. Inoltre gli avversari sono piazzatissimi, non c'è mai superiorità numerica. Ehm, deve fare due o tre dribbling prima, no? Bravo, Peppe, bravo! Ancora lì, dai! Ancora lì, Peppe, ancora lì! Ceroni, Bonafè per Didu che passa a Gamberini. Ceroni recupera palla a suo angolo. Grand dribbling e doppio tiro, primo destro e poi sinistro, per poco non fa gol. Eh no! Ando, che ruolo! Bonafè per Gamberini in posizione Lidia, 4-1. Grazie. Grazie. Grazie a tutti